Ciao e benvenuto in Million Travel. Se guarderai questo video fino alla fine, oggi ti svelerò come guadagnare online e come creare reali e concrete rendite di denaro costanti nel tempo in linea con le tue passioni per i viaggi online. La mia più grande passione sono da sempre stati i viaggi. Cresciuto con la strana idea in testa di essere voleressi cittadino del mondo, questo mi ha spinto sempre più a saziare la mia sete di conoscenze e curiosità nei confronti delle cose nuove. Civiltà antiche, costumi diversi, da tutto quello che magari siamo normalmente o comunemente abituati a visionare, per questo motivo ho creato Million Travel. Oggi puoi trasformare la tua passione per i viaggi in una terribile arma anti-concorrenza per guadagnare online in meno di 15 giorni. Partecipa al mio programma Diventa Consulente Viaggi Online con il World System in pochi passi per generare centinaia di contatti creando la tua attività con sole due settimane di corso con me. Per cominciare voglio mostrarti i guadagni più semplici che puoi fare in Million Travel senza muovere nemmeno un dito, ovvero il cosiddetto guadagno passivo. Il guadagno passivo si basa sul guadagno generato attraverso la semplice navigazione all'interno delle pagine web di Million Travel, senza che tu sia legato obbligatoriamente alla vendita di un viaggio o di un prodotto, e si chiama guadagno passivo. In appena due mesi si sono generati 1740€ di guadagno passivo e ancora dobbiamo cominciare a lavorare. Qual è quel qualcosa che quando ci pensi ti fa letteralmente galleggiare ad un metro da terra? Quel qualcosa che hai sempre sognato di fare ed avere ma che non sei mai riuscito a realizzare ancora oggi? E dimmi, questo qualcosa rientra in una delle tue passioni? E qual è questa passione? Beh, se questa passione riguarda i viaggi online in tutto il mondo, allora credimi, parliamo la stessa lingua. Prima di illustrarti qual è invece il guadagno attivo in Million Travel e quali sono gli altri guadagni aggiuntivi sviluppati dal sistema viaggi online, voglio parlarti della figura del consulente di viaggi, che probabilmente ancora conosci poco. Che lavoro fa il consulente di viaggi online? La figura del consulente di viaggi online è semplice. Organizza e descrive i viaggi tramite tour operator e li carichi sul sito. Il consulente è colui che consiglia un itinerario, un ristorante, un hotel, un bread and breakfast, una casa vacanze. È la persona di riferimento nel posto in cui il cliente, di nicchia, vuole andare a soggiornare. I suoi consigli, a differenza della gente di viaggi, si basano sulla conoscenza concreta del territorio. O perché viaggia in determinate zone o luoghi già da 20 o 30 anni, oppure perché è nato lì, nel posto che sta sponsorizzando agli altri. Perché le persone dovrebbero venire da me per fare un viaggio? Le persone non possono farlo da soli? La maggior parte delle persone che prenotano da sole, mediante internet, è un pubblico relativamente giovane. Quindi si tratta di un pubblico fatto di ragazzi abituati ad utilizzare internet. Diversamente esiste un pubblico, ovviamente in target, di persone molto vasto, che ha bisogno di essere rassicurato da una voce umana o amica, e che quindi affida totalmente, con fiducia, le proprie vacanze al consulente di viaggi di quel settore o di quella tipologia di viaggio o di quella località. Internet è piena di siti di viaggio. Perché dovrebbero venire proprio da me? L'obiettivo di Million Travel per ogni consulente è quello di fare branding ad alto livello. Quello che imparerai nei corsi di formazione ti servirà per generare autorevolezza. Questo significa che le persone ti prenderanno, grazie a delle strategie di marketing molto potenti, come unico punto di riferimento per i loro viaggi di nicchia. Questo è quello che ha sempre generato risultati positivi e sarà un po' il portabandiera della tua attività, ovvero l'autorevolezza. Dopo aver avuto accesso al pacchetto Million Travel, che garanzia ho di guadagno? La garanzia di guadagno è nell'industria del turismo stessa. Perché la gente viaggia sia che ha soldi in tasca, sia che non ne ha. Una volta le persone spendevano soldi per far studiare i figli, oggi spendono per andare alle Seychelles. Inoltre, 9 milioni di persone cercano viaggi ogni mese usando canali internet. Ma quanto va questo lavoro? Beh, fa parte delle nuove professioni emergenti, grazie allo sviluppo di internet. È considerata la professione del futuro quello del consulente viaggi, anche se è professionalmente già nel presente. Ed è grazie a internet che i clienti arrivano stando comodamente seduti da casa. Quindi è una professione che promuove un alto ritmo di lavoro da casa. Anche se so che è in base all'impegno, ma quanto ci guadagno? Guadagni il 10% su ogni pacchetto venduto. E non devi dare nulla a Million Travel, infatti qui con noi non esiste royalty e hai il 100% sulla reddittività. In più hai dei bonus semestrali a seconda del fatturato in crescita. Sì, però io ho un'esperienza. Serve qualche qualifica? No, non occorre nessuna qualifica, in quanto la formazione la diamo noi. L'unica cosa che devi avere, o cui essere esperto, è la località che vorresti vendere. Perché magari ci vai da tanti anni con l'area dove vivi, nel caso tu voglia promuovere le tue zone. Perché si cerca la figura del consulente di viaggi e non la figura dell'agente viaggi? Perché molto spesso l'agente viaggi è una figura professionale dedita al lavoro come specialista o come direttore tecnico in un'agenzia di viaggi su strada. Il problema è che le agenzie fisiche, fronte strada, stanno lentamente e inesorabilmente chiudendo i battenti. Dopo l'avvento di internet. I consulenti di viaggio, invece, è un imprenditore, è una professione libera che non ha molto in comune con l'agente di viaggi. Infatti, non sarai un esperto venditore di viaggi, ma un consulente, cioè colui che consiglia località, strutture ricettive, ristoranti e magari poter dare alcune chicche verso magari una località che conosci molto bene usando i migliori canali online. Quali vantaggi avresti come consulente viaggi? Beh, essere un consulente viaggi million travel vuol dire essere lo stratega di riferimento per le vacanze e i viaggi a lunga e media distanza, senza confini per tutti i clienti in tutto il mondo. Prova a pensare. E se tu potessi? Prenotare gli alberghi per i tuoi clienti da un unico pannello di controllo. Aprire la tua agenzia viaggi senza alcune spese, di feed di anticipo, senza spese di acqua, luce e gas, personale, gestione amministrativa, manutenzione software e strutture. Volare nei posti più belli del mondo perché un consulente che viaggia è un consulente che sa sviluppare il tuo lavoro totalmente da casa con l'uso di un semplice pc e di un telefonino. Che tipo di persona sei? Sei una mamma a tempo pieno? Se sei una mamma il tuo tempo certamente è limitato. Accudire un bambino non è uno scherzo e porta via molto del tuo tempo. Questo ti impedisce di fare altri lavori, magari vorresti lavorare part time perché non sapresti nel più delle volte dove lasciare il proprio bambino o la propria bambina. Comunque in ogni caso molte mamme hanno scelto di diventare consulenti di viaggio proprio per il fatto che è legato al discorso del tempo e il poco tempo che hanno con il lavoro flessibile è fatta interamente da casa con la possibilità di gestire i propri orari e il proprio tempo. Sei un appassionato di viaggi? Se ami viaggiare hai davvero una marcia in più. Gli appassionati viaggiatori hanno davvero una marcia in più nel sistema Million Travel perché viaggiando molto conoscono molti posti oppure viaggiando in una sola località da anni la conoscono esattamente come le proprie tasche e quindi è naturale per te consigliare al meglio ai tuoi futuri clienti quella località che maggiormente hai frequentato e a cui sei abituato a viaggiare. Lavori nel turismo? Che tu sia stato un direttore tecnico nella tua agenzia di viaggio oppure se hai lavorato come guida turistica, ancora sei proprietario di una struttura alberghiera, nessuno più di te conosce i problemi legati alla creazione e fidelizzazione dei propri clienti. Million Travel può davvero aiutarti a impiantare strategie di acquisizione cliente per darti la possibilità di aumentare il fatturato nella tua attività. Se invece per qualche motivo non sei più nel mondo del turismo questa è l'occasione buona per cavalcare l'onda e ricostruire un'attività di successo basata interamente su strumenti e strategie online. Forse sei una di quelle persone che cerca di realizzarsi tramite un lavoro da casa. Il lavoro da casa è davvero una valida alternativa ad un guadagno semplice e sviluppato abbattendo qualunque tipo di costo fisso. Prova a pensare soltanto per raggiungere il posto di lavoro quanto stress e quanto dispendio in termini di denaro hai ogni mese fra carburante ed automobile. Per non parlare del grande stress che si ha nel momento in cui si deve raggiungere il proprio posto di lavoro. Se vivi in una grande città avrai sicuramente avuto anche tu queste brutte esperienze, questo problema, il problema del traffico per quanto riguarda i vari raccordi o le strade interne del centro. Molta gente ancora non ha capito che grazie alle nuove tecnologie esiste la possibilità di fare in modo che il lavoro venga appresso a te e non che tu debba andare ancora appresso al lavoro. Se vuoi scoprire come ho fatto io stesso a generare questo sistema di guadagno online, scoprire qual è stata la mia storia e come anche tu puoi replicare questo sistema con successo, allora ti do appuntamento a domani per il secondo video. Per essere certo di riceverlo, aggiungi il mio indirizzo mail nei tuoi contatti di posta elettronica. Se usi Gmail, controlla anche la sezione di posta promozioni o nello spam. Se trovi le mie mail in area promozioni da Gmail, trascina con il mouse la mail che arriva in area posta arrivato, in modo da ricevere tutte le altre nello stesso posto. Grazie per avermi seguito sin qui. Puoi lasciarmi un commento qui sotto per qualunque tua domanda o eventualmente lasciare un mi piace là dove trovi il tasto Like Me Facebook per aiutarmi a condividere questi contenuti. Ti ringrazio, a presto!